bella ragazzi allora la stellina si trova esattamente qui perdonatemi raga avevo registrato il video ma al posto di dire mille punti mille di xp per le persone che comunque hanno completato il passo ho detto mille big bug quindi per non essere criticato nei commenti ho registrato nuovamente comunque raga la strina segreta si trova esattamente qui in questa posizione vicino a picco polare abbandonata e così ragazzi noi abbiamo completato anche fortunatamente l'ultima settimana e noi ci vediamo al prossimo video